Allora ragazzi benvenuti in questo nuovo video dove voglio praticamente fare quattro chiacchiere mi sono messo anche nella categoria apposita del sito Viola che vi invito a seguire in basso insieme ai miei social mi sono messo nella categoria quattro chiacchiere proprio perché volevo parlare del giochino che vedete qui alla vostra destra perché a me è alla sinistra sono appena entrato in live e voglio comunque già iniziare a parlare poi magari chi entrerà durante appunto questo discorso potrà scrivere scrivere durante la live oppure comunque se arriveranno troppo tardi li rimanderò a guardarsi questo video su youtube in ogni caso parliamo di cyberpunk di quello che sta succedendo alla CD Projekt Red comincio diciamo dal principio ovvero questo gioco fu annunciato con una sorta di teaser trailer circa 7-8 anni fa più o meno ma i tempi non me li ricordo perché appunto è passato tanto tempo comunque essendo appunto passato tutto questo tempo quando tornò alla ribalta con questo gioco fu oggetto di numerosi meme cioè praticamente questo gioco già dal suo ritorno fu preso di mira dal popolo di internet con i meme col fatto che venisse appunto rimandato all'infinito e quant'altro in tutti questi anni però cosa hanno fatto le persone che ci hanno lavorato non so se parti dai che bello ciao I'm the kid world buonasera ciao anche a te Natia buonasera dicevo appunto oggetto già di schermo no perché è passato tanto tempo e le persone si erano ormai spazientite avevano perso le speranze sul vedere questo gioco futuristico che già dal teaser trailer fece molto chiacchierare di sé poi CD Projekt lancia appunto il loro progetto dicono ah ci stiamo lavorando uscirà nel 2020 il problema però che nel 2020 c'è stato il covid quindi comunque ha avuto ulteriori rimandi ed è stato ancora continuamente oggetto di scherno dalle persone che magari avevano anche preordinato la collector dicendo senti dovete fa uscire il gioco perché noi soldi ve li abbiamo dati giustamente e non lo fate uscire diciamo che comunque mettere fretta a quello che è un progetto che poi abbiamo notato con i trailer che sono usciti man mano mettere fretta a un progetto di tale portata ha raggiunto i risultati che ormai tutti sappiamo ovvero un disastro colossale sulle console Xbox One e PS4 cosa è successo? sono cominciati ad arrivare le prime richieste di rimborso da parte degli utenti che avevano comprato il gioco e CD Projekt si è offerta di rimborsarle come è giusto che sia perché se come capita anche su Steam se ti compri un gioco e non ti soddisfo oppure ha dei problemi tecnici che lo rendono ingiocabile è giusto che Steam ti rimborsi e così è stato il problema è che però CD Projekt sta proprio subendo un attacco che secondo me non merita non merita diciamo quello a cui si è arrivato oggi ovvero addirittura una class action degli investitori contro la stessa CD Projekt ora CD Projekt secondo me ha la colpa di aver fatto uscire un gioco un gioco che è nato per le future generazioni non è nata o meglio è nato per PC di 8 anni fa il console di 8 anni fa però il problema è che con l'avanzare del tempo si è evoluto e quindi cosa è successo? tutti gli anni in cui sono capitate le console war è meglio la PS4 è meglio la Xbox voi PCisti non capite niente dei PC in gombra ci vogliono troppi soldi intanto io col PC ci gioco ci sto giocando a Cyberpunk chi ha la PS4 e Xbox One no e già questo dovrebbe farvi riflettere comunque tutti gli anni in cui c'è stata questa console war alla fine Cyberpunk per me è stato quel prodotto che ha detto vedete che fate schifo entrambi adesso perché non ce la fate neanche a reggermi perché poi chi l'ha comprato su PS4 ma già la PS5 oppure Xbox One e serie X o serie S ci può giocare tranquillamente perché appunto le console di nuova generazione ce la fanno quindi perché fare causa la CD Projekt tra l'altro subito neanche due settimane che sarà uscito nemmeno secondo me perché fare subito causa la CD Projekt che tra l'altro lo sta anche patchando il gioco quindi sono anni che escono giochi buggati vogliamo parlare di Ubisoft che escono giochi buggati e che non aggiusta mai rimarranno così per sempre sono anni che c'è la Electronic Arts che fa uscire FIFA che è sempre lo stesso gioco e te lo rivendono ogni volta a prezzo pieno ogni anno alla fine è sempre lo stesso gioco qualcuno ve la dirà no non è vero cambia si cambia la virgola però alla fine è sempre quello peccato che ha fatto questo flop pure le console ma pure a me sta piacendo come ho già detto io con una millesimia fra virgolette 1080 Ti ci sto giocando tranquillamente il problema è che questo gioco è stato pensato per il futuro è un gioco futuristico al 100% non solo nel gameplay non solo nell'ambientazione ma anche per la piattaforma su cui deve girare quindi perché far arrivare ma tra l'altro subito questa class action che ricordiamo ragazzi quando si va a finire nelle cause legali c'è il rischio che una software house affondi anneghi e non riapra mai più quindi c'è lasciamo stare che il giocatore poteva tranquillamente chiedere il suo rimborso e quant'altro però tu così affondi una software house rischi di affondarla rischi di far perdere posti di lavoro e rischi poi di distruggere magari i progetti futuri a cui si è poi messa a lavorare perché credo che comunque una software house come CD Projekt lavori sempre a più cose hai fatto la modifica col block nodes no l'ho fatta però mi hanno detto me l'hanno sconsigliata perché un amico che l'aveva fatta gli alzava troppo la temperatura della GPU lo so però che c'è quella possibilità di modificare i settings che tra l'altro ragazzi anche noi pc siamo castrati perché deve il gioco gira gira con le con come si dice ma il pc è da sempre castrato per via delle console gira con i dettagli di una console e e quindi ragazzi cioè perché fare questa class action allora veramente veramente vi meritate giochi come fortnite che vengono venduti come prodotti gratuiti quando alla fine gratis non sono perché fortnite mo epic games ci sta marciando alla grande con tutti i feedback i pacchetti le stronzate che ci aggiunge addirittura mo c'è l'abbonamento mensile quindi non è gratuito quel gioco è un falso gratuito con tutte le mammine che si sono lamentate che i figli vanno trovando le skin di fortnite non è gratis gli consumano le carte di credito quindi vi meritate questi giochi qua non ho capito perché c'è tutto questo accanimento contro la cd project che per carità ha sbagliato ma dategli il tempo di rimediare le patch le sta facendo ragazzi da quando ce l'ho già tre patch sono uscite da quando me ne ha scaricato uno da 9 giga un'altro da 25 e un'altro tipo da 7 non mi ricordo ma ho preciso cioè le stanno facendo quindi perché non gli date tempo ma chi ha una ps4 allora fate allora chi aveva la ps3 perché non ha denunciato la sony perché poi è uscita la ps4 e hanno fatto i giochi solo per la ps4 cioè che ragionamento è è un gioco pensato per le console di next generation è normale ragazzi io credo che sia comunque anche una tattica voluta dalla stessa sony perché vogliono spingere le persone a comprarsi la nuova console allora quando non produrranno più giochi per le vostre amate ps4 xbox one che fate fate un'altra class action non ha senso non ha senso dice me l'ho comprata la ps4 la tua copia ps4 se ok vuoi rimborso ciao benji buonasera se vuoi rimborso te lo prendi però perché fare la class action non avete pazienza c'è tutta questa frenesia ormai i giocatori c'è lì il fatto che il videogioco è diventato è andato a finire in mano a gente ignorante come dice De Luca Cafoni che ci sono su twitch che con la scusa del gaming fanno gli idioti sui social è veramente sfuggita di mano qua stiamo parlando del lavoro di persone che rischiano di perderlo cioè non è una stupidata i videogiochi funzionano così ragazzi quando esce all'inizio un gioco da sempre da quando ci sta sempre qualche problema ci sono addirittura giochi faccio un esempio stupido banale Counter Strike che a distanza di otto anni che è uscito più o meno mi pare che è uscito nel 2012 siamo nel 2020 comunque a distanza di tutti questi anni ancora riceve degli aggiornamenti Quake Champions che è uscito quattro anni fa vedrete Quake Champions però è gratuito e no perché Quake Champions per esempio io ho la Scalebeer che l'ho pagata la Scalebeer Edition all'inizio le persone si compravano le schede video e ci usciva la chiede di Quake comunque c'è gente che ci ha investito i soldi su Quake Quake Champions nonostante abbia i suoi millemila difetti è un gioco che viene ancora facciato che poi lasciamo che è stato abbandonato a se stesso per i problemi tecnici che ha ancora tutt'oggi però comunque attorno a Quake Champions ci gira anche il Quake che è una competizione internazionale quindi mo che vi sentite tutti in diritto di criticare una software house che per carità ha sbagliato ha sbagliato perché ha pubblicizzato qualcosa che gli è sfuggita di mano questo è stato lo sbaglio di CD Projekt però non punitele fino a questo punto col rischio di farli chiudere perché mi sembra esagerato dategli il tempo perché comunque CD Projekt fa parte di quelle software house che possiedono anche un sito anche il sito internet di gogo.com che è una perla per i pc quindi perché perché dovete dategli tempo dategli tempo ci sono giochi come per esempio di Assassin's Creed che ogni anno esce un Assassin's Creed quello pure ogni volta che esce la gente si lamenta che è pieno di bug però ve lo continuate a comprare Cyberpunk che è un gioco nuovo innovativo è il primo gioco che sfrutta il potenziale del Ray Tracing delle RTX cioè mettetevi l'anima in pace avete una scatola che ha sette anni sulle spalle che pretendete io non lo so portate pazienza portate pazienza se non volete aspettare o chiedete il rimborso oppure portate pazienza magari un giorno sicuramente i consolari vi comprerete la PS5 e ci giocate sulla PS5 ormai l'avete comprato tenetelo cioè sì però Fallout aveva i bug infatti Fallout non è mai decollato come gioco I'm the key perché è stato praticamente massacrato l'ha anche un po' meritato perché Bethesda pure c'ha le cornecchie e Bethesda pure è una software house e quando fa uscire un gioco commette una marea di errori però nessuno gli ha mai fatto nulla perché questo accadimento contro CD Projekt non lo so datemi un parere chi non è live che magari sta vedendo questo video da YouTube un parere nei commenti se vi va chiaramente nei limiti di tempo se state siamo nel 2020 se state vedendo questo video nel 2030 per fare un esempio non so neanche se ci arriverà al 2030 comunque se capita che lo vedete nel 2030 il vostro commento probabilmente non lo leggerò nemmeno però date comunque nei tempi fatemi sapere perché ci deve essere tutto questo accadimento e ricordatevi ricordatevi che dietro ci sono sempre delle persone che ci lavorano ricordate questo che c'è gente che già stiamo nella merda più totale col lavoro quindi è un periodo complicato prendervela così tanto allora per esempio questa è una colpa che do però a tutte le software house tutte nessuna esclusa e che hanno reso i giocatori di oggi ignoranti pretenziosi saccenti mo lascia che ci stanno pure gli investitori che in questo caso hanno agito però tu investitore quando investi ti prendi anche il rischio lo sai al rischio che va incontro perché magari il gioco mettiamo caso che non piace tu lo sai che c'è il flop mo perché vuoi fare la class action la gente non sa aspettare no ma è assurdo è assurdo io ci sto giocando con tutti i difettucci grafici che io comunque sto avendo anche da pc però ci gioco e sicuramente ci rigiocherò ancora una volta non adesso che lo finirò la prima volta però in futuro ci giocherò ancora nuovamente magari quando avrò anche il pc migliore ci giocherò nuovamente perché sicuramente è un gioco che merita di essere rigiocato anche più di una volta perché comunque c'ha tre fazioni diverse quindi merita anche di essere e sicuramente fra un anno per esempio che io non lo so riesco a farmi pc sarà un gioco del tutto nuovo sarà bello giustato perché cd project ragazzi con tutto il tempo che ci ha messo questo progetto lo ama con tutti i soldi che voi comunque gli avete fatto guadagnare comprandoglielo sulla fiducia lei ci stava lavorando cioè ci stavano lavorando poi comunque pure questa cosa io l'ho preordinato eh ma tu quando fai un preorder il day one da sempre c'è il rischio sul day one io infatti i day one ne faccio pochissimi tu sai per punk mi sono fidato fortunatamente ci sto giocando sì infatti sarà pure online che secondo me è molto online con tutti i problemi che stanno avendo verrà rimandato di altri dieci anni cioè io boh state rovinando qualcosa che poi addirittura vedete ma avete preteso che il gioco uscisse nonostante comunque magari cd project ti diceva vedete che lo rimandiamo un altro po' vedete che lo rimandiamo un altro po' e la gente si fa la sentita però poi a rockstar è uscito un articolo che ho letto sono andati a dire prenditela con calma però con gta 6 ragazzi gta 6 se uscirà anzi sicuramente uscirà vi assicuro che secondo me avrà problemi uguali semmai lo faranno uscire sulle old gen secondo me ora tutte le software house si faranno due conti in tasca vedete siete anche diciamo fra virgolette un po' sciocchi non voglio dire parole peggiori però un po' sciocchi perché così adesso le software house si faranno due conti ah sì le vecchie console non reggono la nuova tecnologia benissimo chiudiamole e ora facciamo giochi solo per le nuove e restate fregati raga ma qualsiasi cosa sarebbe potuta uscire su ps4 non la faranno uscire più perché qua le software house vedendo ciò che sta capitando a cd project deciderà di far uscire il gioco suo sulla ps4 perché il ray tracing ormai è una tecnologia un effetto visivo ben saldo ormai lo stanno sfruttando tutti l'engine si è evoluto quindi vedete vi state dando la zappa vi affretteranno ancora di più la chiusura delle vostre console poi la class action poi a chi la fate si si il gioco è stupendo vedi perché benji mi sta seguendo nei gameplay è stata una cavia no non è una cavia cd project ha lo scotto di essere quel gioco che fa da salto generazionale perché gta 6 quando uscirà ma scordatevelo che ma pure gta 5 io mi ricordo quando è uscito all'inizio era stracolmo di bug e problemi la gente non ci riusciva a giocare neanche col computer però rockstar nessuno gli ha fatto nulla perché gta 5 però è un gioco che tutt'oggi ha ancora successo c'è gente che ci gioca online quindi non è comunque ancora dei bug pure gta ho visto comunque che c'ha vedendo la gente che ci gioca online ha dei glitch grafici che si porta dietro da quando è uscito allora chiedete pure il rimborso a quelli no e mi ricordo che comunque anche i primi modelli di one avevano difficoltà a far girare i gta le persone dovevano passare al modello successivo che funzionava un po' meglio allora prendetevela con quelli che hanno fatto demon souls che fu una un flop proprio nero nero uscito demon souls è un'esclusiva è un'esclusiva dei dps e fu un flop quando uscì all'inizio cioè diciamo quando uscì su ps4 perché girava tipo a 20 fps la gente non ci riusciva a giocare e però intanto mo ve l'hanno riproposto perché è uscita una sorta di remaster di demon soul per la vs5 cioè quindi mo le persone se lo sono comprati la scorsa volta e sono pronti e se lo sono già ricomprati anche questa volta quindi in quel caso a differenza di cproject red vi hanno fatto pagare lo stesso gioco due volte cioè io non capisco quindi perché siete allora ragazzi se volete fare i nerd che voi vi definite nerd io sono un videogiocatore sono un gamer sono un nerd benissimo però dovete anche avere l'intelligenza di capire come funziona il mondo del gaming ma voi non ma voi non ci arrivate perché chi chi si sta lamentando non ci arriva non ci arriverà mai non lo capirà mai spero che magari dopo questo mio discorso l'avrà capito sì vabbè i remake con la pala che stanno facendo vi stanno facendo pagare gli stessi giochi due volte anche i fifa i perso sono i remake degli i remake dei remake praticamente è sempre il stesso gioco remeccato rebuttato cambiano solo i giocatori nelle squadre quindi io spero spero concludo perché non voglio farlo non voglio farlo durare troppo il suo video spero che il mio discorso possa arrivare a quante più persone possibile che soprattutto mi auguro lo comprendiate perché questo è un ragionamento che faccio io da gamer ma perché io raga videogioco che avevo 4 anni non è che ho cominciato a moco twitch allora sono gamer non è che gioco a fortnite allora sono gamer diciamo che ho imparato in tutti questi anni come funziona il mondo dei videogiochi è è da sempre funzionato così scusatemi voi l'esempio scemo la ps4 ormai è uscita la 5 cambierete il modello perché si lo cambierete funziona così anche con i videogiochi la cosa assurda è che comunque cd project vedete aveva già previsto questa cosa la copia ps4 la copia xbox one la attivate sulle console di next generation e i miei amici o amici che hanno sia la ps4 che la x che la nuova serie di xbox stanno giocando tranquillamente però c'hanno ovviamente la copia della vecchia console quindi addirittura farlo rimuovere la playstation store ragazzi no non è vero non è una cretinata perché il remake all'inizio anche io un po' la pensavo così però il remake aiuta diciamo un po' le nuove generazioni a far conoscere magari perle del passato che poi le nuove generazioni ormai sono annebbiate totalmente dal multiplayer dalla competitività dal come si dice dal dall'essere singoli cioè si fanno quella cerchia di due tre amici e basta cioè non c'è più quella cosa di gruppi di qualcuno ci prova pure su Twitch qualcuno fortunatamente ci è riuscito però il videogioco ormai l'hanno portato sia le software house che i giocatori a diventare un prodotto di consumismo sono sempre stati consumismo i videogiochi per carità però comunque lamentarvi che già la gente compra i giochi in digitale e lamentarvi che comunque questi vanno dato il fumetto hanno creato una storia ragazzi quello che c'è cioè hanno doppiato qualsiasi dialogo voi che sapete che significa scrivere le linee di dialogo per ogni straminchia di persone che vedete per strada doppiarla tutti i diari che si trovano gli oggetti cioè no giocate a Fortnite cioè che cacchio giocate a Fortnite vi veritate solo giochi come Fortnite cioè io ormai conosco gente che parla solo di Fortnite cioè non ci puoi parlare di altro ma voi veramente cioè è anche colpa vostra un po' questa passione sta sempre di più affondando nel nel becero nello schifo non ci sono nuove idee di giochi beh Saperpunk a me sembra abbastanza nuova come idea però vedete le nuove idee sono sempre un rischio e la gente vuole andare sul sicuro quindi niente beccatevi sempre le solite cose io spero di essere stato esorstivo stavolta per davvero e niente fate un salto sui social che trovate linkato in basso e al prossimo video scull l'anima l'anima